Ciao a tutti benvenuti in un nuovo video mi vedete un po' con la luce strana perché finalmente c'è il sole a Verona c'è il sole c'è caldo non lo voglio dire troppo in fretta perché non lo so ho sentito che ci sarà caldo tutta settimana parlano di temperature sui 12 gradi oltre però c'è chi ha detto che venerdì ci sarà già un cambiamento c'è chi invece ha detto che venerdì poi proseguirà e ci sarà ancora più caldo si parla di 21 gradi quindi non voglio dire niente non voglio dire niente allora vi volevo fare un vedere un po' di spesa che ho fatto in questi giorni allora sono stata all'antigotà a prendere due cose in croce ho preso anche il volantino ma non è che questa volta ci sia tanto che mi interessa e poi sono andata anche in questo negozio qua piacere terra ve lo volevo far vedere ho preso il volantino ma lì non ho comprato niente però mi interessava farvelo vedere perché anche l'altra volta vi ho fatto vedere due o tre cose allora intanto vi dico che alla Lidl ho comprato per 69 centesimi questo pacco di fazzoletti questi qua naturali soliti colorata per natura infatti è carta riciclata contro gli sprechi e poi cosa dice vediamo carta riciclata dai cartoni per bevande questo non lo sapevo quindi la carta mica degli alberi non trattata mantiene il suo colore naturale quindi direi che è ottimo questa cosa qua che non disbosco per due fazzoletti 69 centesimi di 10 pacchetti quindi anche una miseria in più ho voluto prendere gli assorbenti da linea sempre ultra lungo con ali questo qua dovrebbe essere per la notte penso no sì lungo con ali però non ho capito perché non ci sono colorate tutte le goccioline comunque volevo provarle per farvi poi la recensione le proverò più avanti perché per fortuna ne sono appena venuta fuori da quel momento lì e dentro ce ne sono anche un bel po' perché di solito ce ne sono 8 barra 10 invece qua ne contengono 14 e 1 euro e 19 quindi ha pochissimi soldi poi ho voluto prendere perché adesso Sien ha fatto anche le nuove salviette queste qua mille usi classico o sensitive io ho preso quello classico perché tanto le uso poi per le mani infatti qua dice per l'ergenica e detergenti rinfrescanti sono anche adatte per vegani quindi se c'è qualcuno tra di voi vegano c'è scritto vegan ok all'interno ce ne sono 20 e devo dire che l'inci è fatto bene adesso non lo trovo più l'avevo letto in negozio eccolo qua contiene proprio all'antoina quindi comunque è una cosa anche che va un po' a lenire insomma a idratare succo di aloe, pantenolo, estratto di camomilla poi vabbè c'è un po' di glicerina, un po' di profumo per forza e è fatto bene, devo dire che è fatto bene e la salvietta se va nel secco non va gettato nel bici comunque ce ne sono 20 da tenere in borsa le trovo più che comode e se sono valide andrò a comprarle perché costano soltanto 85 centesimi poi ho preso il contorno occhi di questa nuova linea qua della linea CN Sensitive ho preso soltanto il contorno occhi perché poi c'era varie creme corpo che sono strapiena e voglio proprio finire non voglio più acquistare creme corpo e robe così perché voglio finire le cose che ho da anni, da decenni praticamente la accumulatrice seriale e in più c'era poi che quello mi sarebbe servito però l'ho lasciato perdere perché c'era la schiuma detergente per il viso il problema è che io ho la pelle misto grassa quindi ho detto magari non mi va bene a sgrassare il viso e ho lasciato stare comunque questo qui è il contorno occhi adesso sto finendo quello dei provenzali questo poi lo proverò e vi farò sapere dice crema contorno occhi alla mandorla contiene pregiato olio di mandorle dolci da agricoltura biologica controllata che aiuta a contrastare le imperfezioni grazie alle sue proprietà idratanti applicare mattina e sera spero che non sia troppo unto perché quello dei provenzali mi sto trovando molto bene perché è idratante ma al tempo stesso è tipo un gel che si va subito ad assorbire quindi poi vi potete truccare sopra spero che questo qua non sia troppo pesante perché altrimenti potrò usarlo soltanto per la sera e qua dice proprietà idratanti appunto cosmetico naturale certificato senza coloranti e profumi puramente sintetici senza olisi e silicone senza sostanze a base di oli minerali tollerabilità cutanea dermatologicamente testato avrei potuto prendere le creme per mia mamma perché lei appunto ha la pelle un po' sensibile quindi sì il cartone ragazzi tra le altre è completamente riciclato quindi ottimo mi piace questa cosa mi sto guardando gli inci nel senso che contiene glicerina burro di karité c'è un po' di alcol però quindi non so per quanto possa andare bene per chi ha la pelle proprio intollerabile a qualsiasi cosa poi cosa c'è vediamo l'aloe glicerina bisabololo quindi no per quello è fatto bene c'è anche un po' di gomma santana per appunto agglomerare il tutto e l'ho pagato un euro e sessantanove vi farò sapere forse magari potrei fare un salto da Sien soltanto per prendere qualcosa per mia mamma visto che tra festa della mamma compleanno pasqua so che sarebbero cose più utili che non fa le solite cioccolatine o che poi da tigota ho fatto una spesa pazza perché volevo provarla poi vi farò vedere però spero che prossimamente ci mettano degli forti sconti comunque a un euro e novantanove ho preso le salviette struccanti della Ecos erano in offerta eccole qua io le mangio come il pane a colazione praticamente continuo a far fuori i salviette struccanti penso di averle comprate anche l'altra volta però di doverle ancora provare non lo so comunque all'interno ce ne sono 20 poi ho voluto provare questo è home and pet care quindi anche per chi ha gli animali questo spruzzatore dell'emulse o però vegan ok della parte quella naturale per tessuti e tappeti igienizzante efficace sulle macchine neutralizza gli odori del profumo di agrumi e rosa io l'ho preso perché vorrei provarlo ad usare i sedili in macchina in tessuto e spesso prendo il pullman mi siedo quindi sapete un po' l'igiene del pullman e poi con gli stessi pantaloni mi siedo anche in macchina è una cosa che mi fa molto schifo veramente quindi non so mai come pulire a parte con l'aspirapolvere ma capite che ci disinfettate gran poco non so mai come pulire questi cavolo di sedili adesso dietro nei sedili dietro ci ho messo un bel telo che era un lenzuolo con gli angoli così sono riuscita ad agganciarlo bene era una piazza in mezzo quindi ci sta alla grande non serviva più e così almeno lì si sporca meno cambio soltanto il lenzuolo lo lavo quindi è sempre igienizzato insomma però davanti dove guido cosa cavolo faccio e ho detto vabbè lo provo anche perché l'ho trovato in offerta 3 euro e 39 quindi non così proprio tanto in offerta però vabbè e niente ho detto lo provo perché qua sembrerebbe anche facile da usare nel senso che spruzza direttamente sulla superficie da pulire lascia agire e passa con un panno umido quindi insomma spero non manchi perché i sedili nelle macchine di solito tendono a fare la macchina una roba così però lo provo lo provo qua dice detergia a fondo divani in tessuto tappeti moquette poltrone e sedili auto è la mia allora ed è particolarmente adatto per la pulizia di ambienti in cui vivono animali domestici la sua esclusiva formula senza allergeni grazie ai principi attivi vegetali rimuove macchie di grasso bava e altri residui talvolta rilasciati da animali domestici eliminando efficacemente gli odori rilasciando sul tessuto un fresco pulito di agrumi e rosa lo testerò nei prossimi giorni quando avrò un po' di tempo e in caso vi farò sapere se siete interessati ma l'acquisto che ho fatto più da mal di tessa veramente si tratta della nuova linea prodotta da Pierpaoli quindi chi fa Provenzali e un altro marchio adesso non mi ricordo comunque la casa madre è Pierpaoli ha fatto questa linea qua vivo verde vivo verde vo verde non lo so e officina baby il marchio principalmente è adatto per i bambini nel senso che trovate dai detersivi per i biberon le tetarelle robe varie al detersivo per i vestitini del bambino che però nulla esclude che vanno bene anche per le cose degli adulti ma la cosa più interessante appunto per me adulta è l'igienizzante bucato allora intanto vi faccio vedere che questa è tutta la nuova linea la trovate su Tigota anche online è totalmente vegan certificato ICEA quindi ottimo profumato con essenze naturali olio essenziale di mente ed eucalipto in questo caso non contiene profumi sintetici coloranti sbiancanti enzimi cloro triclosan sali d'ammonio quindi insomma si sa che per i bambini si può avere ecco un occhio in più ecologico per il bucato ed è un inigenizzante liquido con azione smacchiante su capi bianchi e colorati non utilizzare su lana e seta versare 100 ml di prodotto cioè 4 tappi direttamente nel cestello della lavatrice aggiungere detersivo per bucato e via io di solito ne verso veramente poco anche di amuchina ne solito ne verso un tappino e boh e anche perché insomma già c'è il detersivo già si sta lavando di solito 30-40 gradi quindi non è che state lavando a freddo quindi non lo so con amuchina metto sempre un tappo e penso che farò altrettanto anche perché 10 lavaggi costa abuso ve lo dico nel senso che è un litro e l'ho pagato la bellezza di 4,99 euro questo era il prodotto della vita nel senso che era il prodotto che stavo cercando perché sapete appunto come vi ho sempre detto che sono passata all'ecologico tutti i prodotti tranne la muchina perché non riuscivo a trovare niente di ecologico per igienizzare i vestiti Pierpaoli mi ha fatto il piacere ed eccolo qua l'altra volta ero andata quel mese scorso sapete che il mese scorso Tigotava ha messo i buoni sconto e c'era lo sconto del 20% sui detersivi ma ancora non era arrivato nonostante Pierpaoli l'aveva già messo nella sua pubblicità io lo seguo su Instagram nella sua pubblicità l'aveva già messo ancora per Natale sotto Natale in quel periodo lì comunque fatto sta che non era ne ancora arrivato e quindi a prezzo pieno devo dire che è un po' tanto perché sono 5 euro quando a munchina in offerta l'ho trovata a 1,50 euro quindi capiamo che la differenza è veramente tanto io ho sposato la campagna del biologico ecologico però insomma ragazze fino a un certo punto perché o me lo mettono in offerta o se no a 5 euro lo userò veramente con il contagocce cioè posso usarlo un lavaggio sì e un lavaggio no comunque per chi è interessato sapete che sappiate che finalmente è arrivato il prodotto che tanto tanto cercavo poi sono stata da Esselunga proprio ieri ieri fresca fresca e ho comprato tre cose in croce ho preso il latte di mandorla bio della Bjorg non lo so questa roba qua era in offerta un litro invece che 2,69 euro c'era lo sconto fidati 30% quindi 81 centesimi in meno poi ho preso delle capsule di curcuma a 3,88 euro sapete che sono fissata con gli integratori eccetera eccetera quindi adesso ho cominciato quello per il fegato e ho detto ma sì prendiamo un po' di curcuma anche perché è azione antiossidante e vediamo cosa dice oltre alla proprietà antiossidante è utile per favorire la funzionalità del sistema digerente delle articolazioni io ultimamente ho un po' di mal di schiena anzi un bel po' di mal di schiena mi sveglio di notte proprio infastidito da questo mal di schiena sapete che ho sofferto spesso di nervo sciatico infiammato così quindi ho detto vabbè un po' di curcuma male non fa anche perché poi con l'arrivo della primavera voglio intensificare proprio la parte dell'integrazione dell'integrazione degli integratori in termini cioè parlo proprio benissimo poi ho preso 80 dischetti e se lunga invece che 1,19 euro c'era lo sconto le ho pagate 36 centesimi in meno sono quelli piccolini che non è che mi piacciono tantissimo da quando ho provato i quadrotti o quelli maxi mi trovo meglio perché ne uso meno comunque è lo stesso con bordino sofficio e resistente e hanno la parte tra puntate e la parte liscia comunque dentro ce ne sono di 70 anche questi ne consumo quantità industriale quindi vanno benissimo poi ho preso della tesori d'orienter in offerta e ho visto su youtube parlare stra bene di questi bagno schiuma doccia schiuma ho detto vabbè lo provo per fortuna hanno messo il sigillo quindi non ho potuto da una parte non ho potuto sentire la profumazione ma più o meno me la ricordo perché avevo comprato i mini profumi da provare comunque c'era questo bizantium o bizantinium una roba del genere se non mi ricordo che io l'avevo odiato con tutta me stessa perché su di me puzzava quindi ho detto no questo qui mi ricordo che tra le altre ce l'ho anche là nella confezione che tengo di profumi mi era piaciuto molto quindi spero di essere andata su sicuro comunque odiamo le paciuli su youtube tanti youtubers ne parlano stra bene perché dicono che è molto idratante che lascia la pelle molto profumata per più tempo qua dice niente parabeni no coloranti no mineral oils no silicone io ho un po' controllato l'incima al volo devo dire che mi sembra al tetrasodium glutamate di acetate che se non sbaglio però non è rosso ma non vorrei dire una menzogna perché ieri non ho proprio guardato ho detto voglio provarlo anche io visto che tutti ne parlano stra bene però devo dire che forse visto che niente parabeni niente coloranti niente di niente può essere che magari tesori d'oriente abbia fatto un po' l'inci decente voglio fidarmi qua dice che contiene olio di amla olio di neem olio sesamo aloe vera e calendula vi farò sapere comunque era in offerta ne ho approfittato per quel motivo lì sono 250 ml invece che 1,55 euro c'erano 47 centesimi di sconto poi ho preso duetto salsicce e patate anche questo in sconto invece che 2,69 c'era 1,35 euro di sconto non so che cosa ho toccato e sono questi qui di rana a noi piacciono tantissimo abbiamo un po' eliminato i carboidrati quindi li mangiamo soltanto nel weekend per intenderci però questi sono veramente buoni e ci sono di vari gusti poi ho preso gli spaghetti di verdura eccoli qua ve li avevo detto anche l'altra volta ma mi sa che non ve li avevo fatti vedere comunque contiene carote, zucchine e zucca ottimi da mangiare 1,78 euro specialmente adesso che arriva anche il caldo una cassetta di aranci tarocco 4,64 euro ripeto non ho capito che cosa sto toccando niente mi tiro via la calza perché non ho non so che cosa ho incastrato nel piede scusatemi ok poi ragazzi in un mio momento un po' così ho preso il kinder pingui stamattina me lo sono mangiato anche a colazione al cocco ce ne erano 4 oggi me lo sono mangiato una appunto a colazione e devo dire che per colazione è una cosa veloce ho bevuto una spremuta e boh il problema è che non abusatene perché non c'è lo sciroppo di glucosio però c'è l'olio di palma se voi eliminate ve l'ho già detto anche altre volte se voi eliminate il resto con l'olio di palma tipo cracker grissini e altre cose con un kinder pingui al giorno non morite con la palma ecco l'importante è che però durante il giorno non andate a riempirvi di olio di palma perché di per sé comunque all'uomo non è dannoso è più un discorso ambientale anche però è ovvio come in tutte le cose bisogna avere parsimonia e prenderne con le pinze comunque non male nel senso che col cocco non carino dai comunque 1,95 euro no l'unica cosa è che sono stata contenta che non ha lo sciroppo di glucoso quindi chimico per chimico ma un po' meno e poi abbiamo preso il dentifricio Sensodyne Rapid costava 4,85 c'era lo sconto di 1,46 euro mio amoroso ha detto che costava meno rispetto a In Giro perché lui lo sta cercando da un po' perché gliel'ha consigliato il suo dentista questo qui con la confezione viola Action dice Rapid Action denti sensibili protezione dal dolore purtroppo con fluoro io non sono contenta di questa cosa però ve l'avevo detto anche in un altro video il suo dentista ha detto che un po' di fluoro occorre e fatto sta che comunque abbiamo girato vari negozi e mi ha detto che lì costava meno in offerte quindi l'abbiamo preso due confezioni e basta ragazzi si ho finito niente questo è quanto io vado a mangiare e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti